La menta piperita veniva utilizzata per scopi medicinali, prima di essere consumata come cibo. I benefici di questo nutriente, che raccoglie tutte le componenti benefiche del terreno, non si esauriscono con il conteggio e ogni giorno si scopre un nuovo beneficio. Sorprendente per il mondo della salute, la menta può essere inclusa in molte ricette nelle cucine di oggi. Questo nutriente, che fornisce incredibili benefici al nostro organismo se consumato nella giusta quantità e tempo, fa bene a quasi tutti i problemi metabolici. Quali sono i vantaggi del consumo regolare di menta piperita? Quando e quanto dovrebbe essere consumata? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi del consumo regolare di menta? La menta piperita è molto ricca di minerali, che svolgono importanti funzioni come il bilanciamento della quantità di zucchero nel sangue. L'effetto ipoglicemizzante di questo alimento è dovuto ai composti vegetali che contiene. Quando la fibra in essa contenuta viene consumata. Si gonfia nello stomaco e prolunga il processo di digestione. L'alto contenuto di potassio e fosforo, che contiene, è molto importante per la prevenzione del diabete. Queste sostanze sono efficaci nella scomposizione delle proteine, che causano la tolleranza al glucosio. Inoltre, l'omocisteina è un aminoacido misurato nel sangue. Quando questa sostanza è ad alto contenuto di tessuto sanguigno, minaccia i vasi sanguigni e apre la strada a malattie cardiache. La vitamina B9 contenuta nella menta piperita neutralizza l'eccesso di omocisteina e protegge i tessuti vascolari. Mentre gli antiossidanti nel suo contenuto aiutano a ridurre la formazione di placca nei vasi, si assume responsabilità molto importanti per un cuore sano. I flavonoidi antiossidanti, un composto vegetale che si trova soprattutto nel tronco, riducono il rischio di malattie cardiovascolari. Minerali come rame, potassio, ferro e fosforo sono molto importanti per bilanciare la pressione sanguigna. Inoltre, la menta è un'ottima fonte di fibre, che aiuta a digerire il cibo. Con il suo alto contenuto di fibre alimentari, fornisce la nutrizione di batteri, benefici molto importanti per la salute intestinale. Grazie ai composti vegetali presenti nella parte del corpo, aiuta a neutralizzare la sostanza chiamata helicobacter pylori, che è una delle principali cause di problemi di stomaco come la gastrite. Protegge la parete interna dello stomaco e previene gli squilibri acidi. Allo stesso tempo, lo zinco e la vitamina B6, che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra salute mentale. Si trovano in quantità molto ricche nella menta. È anche ricco di magnesio, che ha importanti effetti sulle attività del sistema nervoso. Questi composti aumentano l'efficacia dei segnali elettrici al cervello. Sono inoltre vitamine essenziali per la formazione della mielina, che garantisce la qualità del sistema nervoso. Inoltre, con il suo contributo alla glicemia, facilita il controllo del peso se consumato ai pasti, contenendo un'elevata quantità di fibre sane, che favoriscono la perdita di grasso. Questa erba prolunga la sazietà e previene l'inutile apporto calorico. D'altra parte, consumare regolarmente la menta è uno dei modi più semplici per ottenere elevate quantità di conservanti e antiossidanti nel nostro corpo. Questi composti aiutano l'organismo a combattere le malattie batteriche attivando le cellule immunitarie. Soprattutto le parti del gambo della menta ammorbidiscono la gola con il suo effetto antinfiammatorio e alleviano la tosse secca. Quindi, c'è del male in un alimento così benefico? Innanzitutto, il mondo della medicina alternativa sta attualmente utilizzando alimenti come menta, prezzemolo e rosmarino per fare medicine. Pertanto, ha il potenziale per interagire con alcuni farmaci. Se assumi farmaci regolarmente, consulta il tuo medico prima di aggiungere erbe così potenti alla tua dieta. Inoltre, sebbene la fibra contenuta nella menta svolga attività positive per il sistema intestinale, può creare degli effetti negativi occupando l'apparato digerente più del necessario se consumata in grandi quantità. Quindi quanta menta dovrebbe essere consumata? Il consumo di menta a intervalli regolari è molto importante nelle quattro stagioni. Per beneficiare adeguatamente della menta, deve essere consumata cruda. La menta secca o la menta verde esposta al calore perde il suo contenuto vitaminico. Pertanto, il consumo di materie prime è la forma di consumo più vantaggiosa. Consumare un pizzico di menta ogni giorno aumenterà il tuo livello di salute. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere la menta alla tua dieta e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriviti al nostro canale e se non sei ancora iscriviti, stai al sicuro, tieniti informato.